ciao a tutti e benvenuti e ben ritrovati sul mio canale oggi andiamo a realizzare un altro modellino di fascia per capelli molto semplici ma soprattutto velocissime da realizzare quanto da voi mi è stato richiesto di elaborare dei lavoretti belli veloci e pratici da fare io credo che questo sia proprio diciamo molto adatto proprio per questo tipo di tempo impiegato come spesso dico bene non perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere nonostante avete avuto modo già di vederla indossata sul sulla mia testolina di manichino ve la faccio vedere anche dal vivo ecco qua oggi andiamo a realizzare questo modello famosissimo di fascia che io ho avuto modo di vedere sul web però era realizzata con i ferri e io purtroppo non lavoro più ai ferri quindi qualche punto che mi ricordo cerco poi magari per quanto è possibile di elaborarlo poi a uncinetto quindi io questa fascia l'ho realizzata praticamente con il punto riso ma ovviamente lavorata a uncinetto ecco qua questo è quello che andiamo a realizzare oggi nel corso del tutorial vi voglio far vedere la stessa lavorazione lo stesso modello realizzato ovviamente con un altro tipo di filato per farvi vedere l'effetto che ovviamente avremo se andiamo ad utilizzare magari un filato dallo spessore molto molto grosso infatti io questa rossa l'ho lavorata con un uncinetto del numero 6 e mezzo e una lana che dallo spessore andava lavorata con un uncinetto del numero 5 e io ho abbondato per avere ovviamente la lavorazione più morbida mentre questa invece l'ho lavorata con un mohair e ho utilizzato per questa lavorazione ho utilizzato l'uncinetto del numero 4 poi abbiamo bisogno ovviamente delle nostre immancabili forbicine e di un ago da lana per andare ovviamente a rifilare tutti i fili ok bene allora questi sono tutti gli ingredienti necessari per andare a lavorare la nostra fascia quindi a me non mi resta che dirvi andiamo al tutorial allora io parto lavorando 12 catenelle più una che mi servirà ovviamente per girare e per avere in totale 12 punti di avvio perché questa lavorazione necessita di un numero pari quindi io parto mi faccio il cappietto che in questo caso non stringo ma conto come prima catenella quindi una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici ne vado aggiungere una in più quindi tredici e poi salto appunto la tredicesima catenella entro nella seconda e mi vado a lavorare un punto basso e in questo primo giro vado a lavorare un punto basso per ogni catenella che ho appena effettuato fatte tutte le 12 maglie basse a questo punto faccio una catenella e giro il lavoro entro sulla prima maglia bassa disponibile e mi lavoro una maglia bassa una catenella di separazione salto la seconda maglia vado sulla terza e lavoro un punto basso una catenella di separazione salto una maglia e vado in quella successiva e faccio così fino alla fine della riga quando arrivo a fine riga io mi ritrovo l'ultimo punto quindi che cosa faccio vado comunque a fare una catenella di separazione e nell'ultima maglia vado a fare comunque una maglia bassa ecco qua prendendo le due costine non preoccupatevi che ci sono sembrano che stiano uno accanto all'altro questi due punti ma in realtà sono suddivisi poi dalla catenella quindi adesso nel terzo giro io vado a fare una catenella giro il lavoro salto il primo punto basso e vado a fare il punto basso qui dove ho effettuato la catenella di separazione appena fatta nel giro sottostante quindi entro nello spazio della catenella e vado a fare un punto basso catenella di separazione salto il punto basso successivo vado nella catenella di separazione e faccio il punto basso catenella salto la maglia bassa e faccio un punto basso e faccio così fino alla fine della riga quando sono giunta alla fine della riga io ho fatto il punto basso nella catenella di separazione e adesso qui ho il mio solito punto basso singolo quindi cosa vado a fare vado a fare la catenella di separazione e poi entro nel punto basso del giro sottostante così e vado a lavorare il mio ultimo punto basso ecco qua quindi è molto semplice andiamo praticamente ad alternare il punto basso nella catenella del giro sottostante e la catenella sul punto basso del giro sottostante quindi io ve lo vado a ripetere ancora una volta e poi lo procediamo per tutta l'intera lunghezza quindi catenella giro il lavoro giro il lavoro e vado a fare il primo punto basso nella catenella separatoria del giro sottostante quindi qua entro e mi lavoro il punto basso catenella salto il punto basso vado nella catenella e mi lavoro il punto basso e procedo così fino alla fine arrivati ovviamente alla fine della riga noi ovviamente ci ritroviamo la maglia bassa del giro sottostante quindi si ha la sensazione di andare a lavorare due maglie basse una accanto all'altra ma in realtà invece no perché saranno separate dalla catenella che noi andremo ad effettuare ovviamente in questa fase quindi io faccio la catenella di separazione e poi mi vado a fare il punto basso normalmente nel punto basso che mi ritrovo ovviamente io poi faccio la catenella mi giro il lavoro e mi ritrovo automaticamente poi a lavorare il punto basso nella catenella del giro sottostante e dobbiamo andare a proseguire ovviamente andando ad alternare questi punti fino alla lunghezza che ovviamente ci serve per stabilire diciamo tutta l'intera fascia io adesso andrò avanti per i giri necessari e poi vi dirò per quanti giri continuare però ovviamente questa è una fase un po' soggettiva nel senso che per andare ovviamente a renderci conto di quanti centimetri noi dobbiamo elaborare la fascia per far sì che venga indossata ovviamente normalmente senza nessun tipo di problema l'unico diciamo indirizzo preciso sarebbe quello di andare a prendere la circonferenza della testa però ovviamente mantenerci sempre almeno due tre anche quattro centimetri al di sotto della circonferenza reale che noi abbiamo come risultato perché altrimenti poi rischiamo se noi facciamo la fascia degli stessi centimetri di cui corrisponde la nostra circonferenza rischiamo che poi la fascia risulti larga e quindi ci cade dalla testa quindi è bene mantenerci almeno due tre anche quattro centimetri al di sotto della circonferenza stabilita quindi io procedo e ci rivediamo dopo perfetto ragazze allora io ho terminato di elaborare l'intera lunghezza della mia fascia ed ecco qua come si presenta tutta la lavorazione bene allora io ho lavorato in totale 45 centimetri ecco qua ve li faccio anche vedere ecco questo dell'inizio e io sono arrivata alla fine ovviamente della mia striscia con 45 centimetri e questi 45 centimetri sono più che sufficienti per una circonferenza della testa che varia dai 52 54 e anche 55 centimetri ecco quindi io mi sono tenuta 45 centimetri in meno perché ovviamente sappiamo molto bene che poi con la lana cede vedete anche la lavorazione che noi abbiamo adottato è una lavorazione che ovviamente è molto elastica e quindi non rischiamo poi che la fascia venga un po troppo larga allora una volta che abbiamo fatto tutta l'intera striscia a questo punto andiamo ad unire le due parti e io la cucitura la vado a fare sul rovescio quindi questa è la parte del dritto della lavorazione e quindi io vado a fare così in questo modo vado ad unire questa parte e faccio così allora entro con l'uncinetto nella prima maglia ecco qua così perfetto poi entro nell'asola che ho lasciato ovviamente da quest'altra parte se ci riesco ok perfetto e la faccio passare attraverso il punto della prima parte adesso vado nel punto successivo quindi questo entro e poi vado nel secondo punto che corrisponde ovviamente sull'altra parte in questo modo e vado a prendere solo la prima asola vedete non sono andata a prendere anche la seconda ma prendo solo la prima in questo modo aggancio il filo e chiudo con un punto bassissimo quindi vado a farvi vedere ancora una volta entro nel punto successivo poi entro in quello che mi corrisponde di fronte ma prendendo solo la prima asolina quindi lasciando la seconda aggancio il filo e chiudo con un punto bassissimo e procedo così fino alla fine della cucitura una volta che abbiamo terminato di cucire entrambe le due estremità ecco come si presenta la cucitura vedete io ho fatto in modo che questa parte non risultasse con quel cordone che potrebbe dare fastidio se appoggiato sulla testa e poi anche esteticamente vedete io la metto in posizione piatta e non abbiamo nessun cordone che viene rialzato mentre invece sulla parte del dritto la lavorazione risulta in questo modo quindi abbastanza netta pulita e senza ovviamente nessun vedete parte rialzata ecco qua allora io ho finito ovviamente ho tagliato il filo in eccesso mi faccio passare il filo attraverso l'asolina e poi dopo alla fine questi fili poi magari con l'ago li andiamo tutti a rifilare bene la prima parte della nostra fascia praticamente adesso è completata quindi adesso andiamo a fare la striscetta piccolina centrale che darà ovviamente quel tocco del nodo centrale allora per andare a ricreare la fascetta centrale dobbiamo andare a riprendere la stessa lavorazione che abbiamo fatto per la fascia però in questo caso l'avvio sarà di 7 catenelle quindi io giro faccio la prima 7 catenelle perché 6 saranno quelle che andranno lavorate e una ci servirà ovviamente per girare quindi 1 2 3 4 5 6 e la settima che ci servirà ovviamente per girare il lavoro quindi io punto di nuovo nella seconda catenella e mi vado a lavorare un punto basso in ogni catenella quindi noi andiamo praticamente a ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto per la fascia quindi andiamo ad iniziare il nostro lavoro con giri di punti bassi e adesso come abbiamo fatto per la fascia così facciamo anche per questa piccola quindi catenella giro il lavoro mi vado a lavorare un punto basso catenella salto un punto e vado nella prossima catenella salto un punto e vado sull'ultima catenella giro il lavoro salto il primo punto basso e dentro qui nello spazio della catenella questa vedete entro ed elaboro il punto basso catenella salto il punto vado nella catenella e ripeto il punto basso catenella salto il punto e lavoro il punto basso ecco qua quindi andiamo avanti ovviamente con giri di andata e ritorno con la stessa lavorazione della fascia per i centimetri che poi vi dirò bene io ho terminato di elaborare anche la fascetta piccola e ho lavorato in totale 11 centimetri 11 centimetri sono più che sufficienti perché poi dobbiamo considerare anche che adesso noi andremo a fare un bordino su tutti i quattro lati della nostra piccola fascetta li andremo a fare ovviamente a maglia bassissima quindi facciamo in questo in questo modo allora io faccio una catenella mi giro entro sul prossimo punto e vado a fare un punto bassissimo entro sul prossimo e faccio un punto bassissimo in questo modo così sono arrivata all'angolo e una volta che siamo giunte all'angolo andiamo a fare la stessa cosa anche sul laterale lungo quindi io vi faccio vedere io come faccio e poi ovviamente proseguite vedete entro semplicemente in ogni ma in ogni maglia che ci ritroviamo ovviamente nel nostro laterale però andiamo a fare un contorno di maglia bassissima così vedete è molto semplice e mi raccomando di mantenervi morbide quindi facciamo questo per tutti i quattro lati e poi ci rivediamo bene io ho terminato di fare il contorno a maglia bassissima su tutta praticamente la mia piccola fascia e ovviamente ho chiuso l'asola e poi ho lasciato un po' di filo ho infilato il mio ago perché adesso noi questa piccola fascetta la andiamo a cucire sulla nostra fascia ovviamente per andare a ricreare il nodo centrale ora io questa operazione la faccio sul rovescio in modo che poi una volta che abbiamo girato la nostra fascia non abbiamo più né cuciture né imperfezioni quindi andiamo a rigirare la nostra fascia sulla parte del rovescio mettiamo verso di noi la parte che noi abbiamo unito i due lebi prendiamo la fascetta piccolina così e la mettiamo praticamente con il rovescio su di noi cioè verso di noi no con la parte del rovescio sì la parte del rovescio quindi questa la mettiamo così in questo modo quindi la facciamo entrare in questo modo sulla fascia e poi andando a ripiegare i due lembi in questo modo non vi preoccupate che sembra corta perché è questo l'effetto che noi dobbiamo dare che una volta che abbiamo unito questi due lembi praticamente poi alla fascia si creeranno delle piccole grinze che è proprio dovuto al modello della fascia quindi ripieghiamo verso il centro un lembo andiamo a ripiegare anche l'altro lembo in questo modo così quindi le facciamo combaciare e poi ovviamente andiamo con l'ago e andiamo ad unire questi due punti questi due lembi così in questo modo una e poi il punto di fronte e tiriamo prendiamo un lembo di uno e un lembo dell'altro e cuciamo così molto semplice e andiamo a fare questa cucitura fino alla fine bene una volta che abbiamo terminato di fare anche la seconda cucitura sulla piccola fascetta ovviamente andiamo a nascondere tutti i fili in eccesso la rigiriamo sulla parte del dritto e questo è l'effetto che avremo della nostra fascia vedete? ecco qua questo è un modello che io l'ho vista mi è piaciuta tantissimo e ho provato ovviamente a riproporla e mi piaceva molto questo effetto del punto riso ovviamente sviluppato a uncinetto e quindi mi è piaciuta questa idea e ve l'ho proposta ecco io adesso ve la giro su tutta la sua circonferenza e praticamente la parte dove noi abbiamo fatto tutte le cuciture ovviamente esteticamente non si vedrà assolutamente nulla ad eccezione ovviamente solo su questa parte che comunque vabbè è normale perché sono delle cuciture che noi siamo andate ad effettuare ma noi sulla parte sottostante non ci interessa quello che ci interessa è la parte superiore ecco qua ragazze io spero che questo progetto vi sia piaciuto sia stato di vostro gradimento se vi è piaciuto mi potete lasciare un bel pollicino all'insù e ricordatevi se non siete iscritte al mio canale iscrivetevi attivate la campanellina che uscirà appena subito dopo che avete effettuato l'iscrizione che vi ricordo è sempre gratuita quindi e niente cliccate sulla campanellina e attiverete le notifiche automaticamente in tempo reale ogni qualvolta che uscirà un mio prossimo progetto io vi ringrazio per avermi seguita un bacio a tutti e vi rimando alla prossima ciao